Un nuovo e dettagliato patto sociale per aprire una nuova fase di integrazione, convivenza e inclusione. Questa mattina a Palazzo Mezzabarba si è svolta la conferenza stampa di presentazione del patto sociale per la promozione dell'inclusione e di un rapporto con il territorio. Un patto sottoscritto dal comune di Pavia e dai residenti dei due campi nomadi di Piazzale Europa e di Via Bramante. Il patto sociale è stato pensato con lo scopo di promuovere lo sviluppo, l'integrazione e l'inclusione e di garantire il miglioramento della qualità della vita all'interno delle aree. Sindaco Alessandro Cattaneo, oggi è stato presentato il patto sociale per la promozione dell'inclusione e di un positivo rapporto con il territorio. Che significato ha per la città di Pavia? Si tratta di uno strumento e di un risultato davvero importante per la città. Naturalmente questo patto sociale è rivolto in particolare a coloro che abitano nelle zone di Piazzale Europa e Via Bramante con oggettivi problemi di relazione con il resto della città e una situazione che non è accettabile per la città di Pavia e che a tendere dovrà essere assolutamente risolta. Questo è un punto importante, un approdo davvero significativo grazie ai servizi sociali. Sostanzialmente si mette nero su bianco l'impianto di diritti e sono importanti, ma anche di doveri. Io ho sempre detto che non possiamo prescindere l'etica del diritto dall'etica del dovere. E allora questo è un atto di responsabilizzazione mai avvenuto prima, che ogni capofamiglia di queste aree prenderà sulle spalle con responsabilizzazioni anche in termini economici, dando al Comune una cifra per l'occupazione di suolo annuale, dovendo rispondere del pagamento e rispetto alle utenze, come fanno tutti i cittadini della città, rispondendo anche dello stato di decoro, di ordine, in cui versa l'ambiente in cui anche queste persone quotidianamente vivono. I diritti di questa città li dà, li dà a tutti, una mano tesa lo si dimostra quotidianamente attraverso i servizi sociali, di tenderla soprattutto, penso, ai bambini, alle nuove generazioni, che stando nelle nostre scuole si integrano davvero. È importante però che si facciano dei passi significativi e io credo che la responsabilizzazione, e mettere anche nero su bianco questi concetti sia un punto di mentalità e un salto di qualità nelle relazioni che doveva avvenire e che non esito a definire anche un risultato storico. Non è però finita, anzi è uno snodo importante, ma da qua proseguiamo a guardare avanti per risolvere e sanare definitivamente situazioni che per la città non sono più rimandabili.